L'amicizia umana è l'amicizia spirituale. Allora, è pur vero però, come ci hanno scritto alcuni telespettatori, che nella vita puoi trovare amici che ti arricchiscono, che ti fanno crescere, che sono compagni veramente di vita, sono compagni di strada, sono compagni anche nel cammino di fede. Ma, ahimè, puoi incontrare anche amici che ti rovinano la vita, che, come si dice da noi in maniera semplice, ma soprattutto come dicevano i nostri nonni, che ti portano sulla cattiva strada. Questo è verissimo. Questo è vero anche perché capita spesso. La letteratura, tante favole, antiche e moderne, sono piene di questi incontri di amicizia che possono essere positivi o possono essere negativi nella nostra vita. Ieri ci siamo posti l'interrogativo di come si può vivere l'amicizia in maniera fruttuosa e ci siamo detti che occorre avere un'esatta visione di quel che sono io e di quel che sono gli altri. Io occorre avere un'esatta visione anche dei fratelli e delle sorelle nella nostra vita di fede. Ahimè, in più delle volte proprio le liti peggiori avvengono proprio nelle nostre comunità, no? Ce le dobbiamo dire queste cose. E fa parte della nostra umanità e purtroppo la nostra umanità molte volte ci fa anche prendere così delle vie sbagliate, ci fa confondere, ci fa perdere anche delle cose che valgono. Chi è o che cosa è la Chiesa? Mi pongo questo in derogativo pensando, per esempio, all'amicizia che noi dovremmo vivere meglio, alla fratellanza che dovremmo vivere all'interno delle nostre comunità. Se io considero la Chiesa come la barca, che è un simbolo biblico, un simbolo teologico meglio, in cui la Chiesa è considerata questa barca, al cui timone c'è Pietro. Ma, giustamente come faceva notare il predicatore della Casa Pontificia, padre Ramiro Cantalamessa, la Chiesa non è una barca a revi, cioè dove il viaggio, l'arrivo, la meta raggiunta è merito di chi re, ma no. La Chiesa è una barca a vela ed è spinta, non da noi questa barca, ma dal soffio dello Spirito, è spinta dallo Spirito Santo. La forza della Chiesa, di questa barca a vela, è lo Spirito Santo. Che cosa c'entra questo con la nostra riflessione sull'amicizia? Se io mi considero colui che rema, allora l'amicizia va dove non deve andare. Se io invece mi considero colui che viene spinto insieme a tutti su questa barca a vela, dallo Spirito Santo, Allora, l'amicizia, la vita di fede, la vita umana va dove Dio vuole e dove Dio vuole sembra bene per l'umanità. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!